Dopo il via libera e gli interventi in regime libero professionale da parte dell'ospedale San Carlo, il consigliere regionale del gruppo misto Giannino Romaniello ha invitato il presidente della quarta commissione consigliare, Vito Giuzio, a programmare l'audizione dell'assessore alle politiche della persona, Flavia Franconi, e dei sindacati di categoria. L'esponente politico chiede di conoscere la strategia generale che sottende alla scelta di aprire le sale operatorie dell'ospedale all'attività privata dei medici. Per Romaniello è importante capire bene la finalità di questa scelta, considerando che l'azione messa in campo, così come dichiarato dalle parti in causa, potrà abbattere le liste di attesa, in particolar modo di alcuni reparti, e avere ricadute ed effetti sull'organizzazione aziendale, sia per quando riguarda l'utilizzazione del personale, che per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, orario di lavoro, riposi e quant'altro.